Allora abbiamo qui con noi la nostra relatrice Patrizia Caraveo in questa splendida sala che è una sala del Palazzo Giusti Orfini dove si svolge questa conferenza che è una delle 114 che vengono svolte in questi giorni durante la sesta edizione della festa di scienza e filosofia che è organizzata dal laboratorio di scienze sperimentali di Foligno. La nostra relatrice è un'eminente scienziata che è stata ospite già alla scorsa edizione della nostra festa di scienza e filosofia ed è l'astrofisica Patrizia Caraveo è una persona una grande astrofisica che è impegnata in diverse attività riguardanti le missioni spaziali e in particolare la direttrice dell'istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano e collabora a diverse missioni spaziali sia nazionali che internazionali in particolare quelle della NASA SWIFT e Fermi anche la missione spaziale europea integra. È stata insegnita nel 2009 del premio nazionale Presidente della Repubblica per i contributi alla comprensione dell'emissione di alta energia delle stelle di neutroni e nel 2014 è stata premiata per le sue attività di ricerca dall'associazione Women in Aerospace in Europe. Questo ci dice che abbiamo con noi un'importante donna di scienza. Infatti oggi non parleremo qui né di cosmo né di missioni spaziali né di stelle ma parleremo di parità di genere. Infatti la domanda che ci poniamo oggi è uomini e donne vengono giudicati allo stesso modo uomini e donne hanno davvero uguali diritti e di questo parleremo con la nostra relatrice per riuscire a capire se davvero uomini e donne hanno gli stessi diritti nella partecipazione al mondo del lavoro, nella possibilità di avere un'istruzione adeguata e anche nella presenza nella politica e nel governo delle nazioni. Per fare un brevissimo saluto e una piccola introduzione all'argomento abbiamo con noi l'avvocato Stefano Mingarelli che è il nuovo presidente della sezione di Foligno dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Lascio subito a lui la parola per poi passarla all'astrofisica Patrizia Garaveo. Grazie di essere qui. Sì buonasera a tutti io mi chiamo Stefano Mingarelli e sono il nuovo presidente della sezione Ampi di Foligno. Sono stato eletto lo scorso febbraio. Vi chiederete come mai una persona come il sottoscritto che certamente per questioni anagrafiche non può aver fatto la resistenza sia stato nominato presidente della sezione locale di questa associazione semplicemente perché a partire dal 2006 Lampi ha deciso di aprire il tesseramento anche ai non partigiani cioè soggetti diciamo che per questioni anagrafiche appunto non hanno fatto la resistenza per consentire appunto la memoria di ciò che è stato venga trasmessa ai giovani dalla viva voce di chi ha vissuto l'orrore e la barbarie affinché non si ripetano mai più. Ciò premesso l'organizzazione di festa scienza filosofia ha invitato l'Ambi a portare il proprio saluto a questa conferenza che parla di parità di genere e uguaglianza ai diritti delle donne perché quest'anno ricorre il settantesimo anniversario di due importanti momenti che hanno riguardato le donne e i loro diritti uno a livello nazionale e l'altro avvenuto proprio nella nostra città. Mi riferisco al voto sul referendum istituzionale del 2 giugno del 46 che ha visto per la prima volta le donne esercitare il proprio diritto di voto su scala nazionale contribuendo in modo determinante alla proclamazione della Repubblica e a un altro avvenimento importante che è avvenuto nella nostra città cioè l'elezione del primo consiglio comunale post bellico della città di Foligno il 31 marzo del 1946 che determinò l'elezione tra l'altro di due donne la dottoressa Liliana Innamorati e la professoressa Emma Zaccagnini. Possiamo dire che da allora molto è stato fatto ma molto rimane ancora da fare come ci mostrano purtroppo tutte le pubblicazioni degli istituti ricerca in cui le donne purtroppo sono ancora oggi penalizzate soprattutto con riferimento al mondo del lavoro in ricordo quello che dice sul punto il nostro articolo 37 della Costituzione la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore una norma che evidentemente purtroppo rimane quasi lettera morta oggi non so che cosa avvenga nell'ampito della scienza ma di questo ci parlerà la dottoressa Caraveo e mi piacerebbe chiudere dicendo alle donne di oggi che con lo studio il sacrificio e la lotta quotidiana certamente saranno in grado di raggiungere la piena parità di diritti con gli uomini come ci dice l'articolo 3 della nostra carta costituzionale secondo il quale tutti i cittadini hanno pagni di dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso di razza di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali grazie passo la parola alla dottoressa Caraveo grazie per questa bellissima introduzione e ovviamente noi non mettiamo assolutamente in dubbio che gli uomini e le donne abbiano gli stessi diritti ma quello del quale oggi voglio parlare è piuttosto diciamo una questione di tipo sociologico come viene considerato come viene giudicato il lavoro fatto da un uomo e lo stesso lavoro fatto da una donna sono giudicati allo stesso modo ovviamente uno direbbe fanno lo stesso lavoro se lo fanno bene tutte e due dovrebbero essere giudicati nello stesso modo e invece purtroppo la risposta è no il lavoro di un uomo è giudicato in modo diverso da quello di una donna e siamo proprio noi che operiamo questa differenza di giudizio perché in qualche modo abbiamo un imprinting siamo condizionati e siamo talmente condizionati da questa cosa che la maggior parte delle volte non ce ne accorgiamo nemmeno quindi adesso vi darò tutta una serie di esempi di queste differenze di giudizi in qualche modo modo diverso di giudicare gli uomini e le donne e poi cercheremo di trarre qualche insegnamento diciamo tra virgolette cominciamo dalle belle notizie quindi per esempio cominciamo a guardare un'aula universitaria questa è una tipica aula universitaria per la cronaca credo che sia un istituto di fisica di pavia ma non fa nessuna differenza vedete che ci sono ragazzi e ragazze che sono insieme a seguire le lezioni quindi le ragazze vedete sono un numero molto significativo in in quest'aula e in verità da qualche anno è avvenuto uno storico sorpasso nel senso che il numero di matricole di genere femminile ha superato il numero di matricole di genere maschile quindi più donne si iscrivono all'università e la cosa straordinaria se voi guardate questa immagine che chiaramente non è un'immagine italiana ma viene dal mondo anglosassone dove sono diciamo ci sono questi rituali di mettersi toghe cappelli eccetera nel nel giorno della della graduation della laurea vedete che che qui c'è una situazione estremamente interessante gli uomini sono delle specie di mosche bianche la maggior parte delle ragazze che che sta per ricevere il la pergamena che sanziona il fatto che sono diventati dottori quindi la maggior parte degli studenti diciamo sono ragazze e se volete avere un po' di numeri con cui tornare a casa in media in italia il numero delle laureate è il 55 per cento del totale anzi adesso siamo anche sopra il 55 per cento quindi ovviamente non sono uniformemente distribuite in tutti in tutte le facoltà universitarie nel gruppo linguistico sono la grande maggioranza il fanalino di coda è l'ingegneria che ne ha di meno però sono in in aumento i numeri quindi vedete che siamo andati molto molto avanti rispetto al a quello che diceva Nietzsche che è un rispettabile filosofo con il quale uno può essere d'accordo oppure no con le sue teorie sulla razza e tutte queste belle cose che ci insegnano a scuola ma aveva una visione delle donne diciamo da età della pietra in quanto diceva che quando una donna si dedica agli studi significa che qualcosa non funziona nella sua sessualità se fosse vivo adesso si preoccuperebbe moltissimo perché vedrebbe che tantissime donne devono avere dei grossi problemi con la loro sessualità non è il caso le studentesse in generale se parlate con qualsiasi docente universitario vi dirà che le studentesse in media hanno dei risultati migliori dei maschi si laureano prima quindi hanno un percorso di studi più regolare e in generale hanno diciamo più facilmente il massimo dei voti quindi la situazione assolutamente idilliaca nella nella nostra università ma è una situazione che si ritrova in quasi tutte le università del mondo occidentale più donne donne che si laureano molto bene e e dopo che cosa succede allora dopo si entra nel mondo del lavoro il mondo del lavoro può essere un'industria può essere l'insegnamento può essere la ricerca e ci sono cominciano a materializzarsi tutta una serie di problemi dei quali faremmo volentieri a meno ma ci sono e quindi ne parliamo perché il primo modo di risolvere i problemi è essere coscienti che i problemi esistono se uno manco è cosciente che il problema esiste non si risolverà mai allora andiamo prima cosa il tasso di disoccupazione femminile è un po maggiore di quello maschile però sono dati che variano nel tempo dipende dal tipo di occupazione eccetera supponiamo che la nostra cavia femmina venga assunta e a questo punto quando uno viene assunto poi inizia una un suo percorso che passa attraverso quella che tecnicamente si chiama la progressione di carriera si viene assunto in un livello più basso poi man mano che passa il tempo cresce l'esperienza uno dimostra quello che vale si sale nel tempo purtroppo la salita delle donne è difficoltosa e adesso lo vediamo sia in ambito sia universitario sia del lavoro cominciamo con l'ambito universitario che è molto immediato le ricercatrici cioè il primo livello di entrata nell'università o nel mondo della ricerca sono tra diciamo il 30 e il 40 per cento dipende come sempre sono cifre medie ci sono delle aree nel quale ce ne sono di più altre dove ce ne sono di meno ma mediamente diciamo sono un po' meno della metà i professori associati che è diciamo il secondo stadio della carriera in un'università diventano un quarto del totale e i professori ordinari che è l'ultimo il più alto grado della carriera universitaria diventa un decimo del totale allora questo qui è il vero problema che hanno davanti le donne quella che in qualche diciamo nei testi potete anche trovare definita come la forbice delle carriere allora vedete che le donne cominciano la loro esperienza la loro vita universitaria a un po' meno dicevamo della metà diventano un quarto a metà strada e diventano un decimo alla fine del percorso quindi purtroppo quello che noi vediamo è che la componente femminile cala con il progredire della carriera e questa non è una cosa bella devo dire ci sono esempi ovviamente in tutti i tipi di studi in tutte le materie ma ce n'è uno che io trovo assolutamente estremo che è l'esempio degli studi umanistici allora abbiamo detto che negli studi umanistici la percentuale di donne che si laurea è estremamente alta allora vediamo un attimo dei numeri tanto per gradire scusate allora vedete che cominciamo con una decisa maggioranza di donne 3 a 1 rispetto agli uomini quando iniziamo a passiamo i primi ostacoli facciamo i primi esami, i primi concorsi per entrare nella vita accademica il distacco si restringe le donne sono sempre di più degli uomini ma non nella stessa proporzione alla fine della carriera la situazione si è completamente rovesciata e abbiamo che il numero delle donne che arriva anche negli studi umanistici ai gradi più alti della carriera è un decimo del totale quindi il fatto di essere partite così in tante non ha aiutato quindi questo è evidentemente un grosso problema un grosso problema che significa che o le donne sono meno brave degli uomini o gli vengono tagliate le gambe in modo sistematico e quindi ci chiediamo perché le donne fanno meno carriera la prima risposta che in generale uno riceve è perché devono badare alla famiglia allora le donne hanno questa insana voglia o così compito di fare continuare la specie umana devono se ci vogliamo riprodurre bisogna passare attraverso una donna e quindi chiaramente allevare, dovere gestire una casa con uno o più pargoli non è una cosa che uno faccia così nei ritagli di tempo occorre molto molto tempo e ovviamente il tempo che uno dedica alla famiglia deve essere tolto da qualche altra parte quindi si dedica meno intensamente all'attività di insegnamento all'università a seguire gli studenti a scrivere libri o scrivere pubblicazioni di qualsiasi tipo ora ovviamente questo qui non si applica ai maschi perché in generale un bambino ha un papà e una mamma tranne casi particolari e per qualche motivo ai papà mettere su famiglia fa bene perché se uno guarda le carriere dei maschi quelli sposati fanno più carriera fanno carriera più in fretta di quelli non sposati quindi c'è questa strana cosa e invece per le mamme è considerato una palla al piede non è vero non è vero per un semplice motivo perché se uno va a vedere le carriere fatte dalle donne che decidono o di non sposarsi o di non avere figli diciamo le loro carriere sono problematiche esattamente allo stesso modo quindi è vero che avere figli è un peso in qualche modo per la carriera di una donna sicuramente non è un aiuto diciamo così ma è altrettanto vero che non averli non fa la differenza allora una seconda ipotesi è hanno un diverso stile di lavoro allora la risposta è sì hanno un diverso stile di lavoro e allora qual è qual è il problema non è che perché uno non non spenda tutto il suo tempo a mandare al diavolo il resto del mondo a trattare male la gente così sia una persona che vale di meno purtroppo il vero problema è che sono le donne sono discriminate e sono discriminate da quei pregiudizi sociali a cui facevo riferimento prima e che vanno sotto un nome ovviamente anglosassone questa cosa è stata studiata a lungo che si chiama old boys network cosa vuol dire sono il circolo degli amici se più uomini vanno nelle posizioni apicali quando si tratta di scegliere degli altri componenti del collegio didattico della loro università ma vale anche nelle aziende tendono a prendere la gente che conoscono quindi il loro giro di amici giro di amici che si sono fatti all'università che si sono fatti a giocare a calcetto quando giocavano a calcetto eccetera quindi il giro di amici che in qualche modo continua a andare avanti man mano che progredisce la carriera di questi signori devono prendere un nuovo professore e allora cominciano a chiedere ad altri professori tu chi consigli secondo te chi va bene e loro prendono sempre dal dal gruppo di persone che conoscono è molto più facile quindi che vengano scelti dei maschietti semplicemente perché fanno parte del club di quelli che sono conosciuti allora questo qui si chiama in qualche modo effetto professori d'orchestra perché le orchestre ci sono molti ambienti che sono a maggioranza maschile ma le orchestre fino a qualche anno fa fino a qualche decennio fa erano veramente terribilmente a maggioranza maschile questa è la Wiener Philharmoniker istituzione di grande prestigio quella che fa il concerto di Capodanno eccetera quando c'è sempre la la speaker tedesca che dice Blumenhaus Sanremo vedete lì ci sono i fiori di Sanremo e ci sono gli orchestrali se voi guardate bene questa foto vedete che le donne sono veramente poche allora la Wiener Philharmoniker è così anche adesso prendete quando con mia figlia guardiamo il concerto di Capodanno cerchiamo di contare quante sono le donne non si arriva a tre o quattro c'è l'arpista una violinista una flautista e and that's it sono veramente molto poche e nei conservatori i conservatori sono pieni di ragazze non è che le donne non studino musica comunque se non ci credete vedete queste immagini questi sono degli zoom sempre della Wiener Philharmoniker quindi vedete che finalmente qui compare una donna la vedete lì quindi allora alla Wiener Philharmoniker non si sono posti problemi a loro va bene così però in altre orchestre tipicamente al Metropolitan all'Orchestra Sinfonica di Chicago dei posti dove hanno più attenzione o qualcuno gli fa notare che c'è qualcosa che non va hanno pensato che forse per risolvere questo problema bisognava ricorrere al metodo delle audizioni alla cieca cioè bisogna fare in modo che chi giudica la qualità di una musicista non lo veda quindi non sappia se è giovane o vecchio se è donna uomo bianco giallo nero quello che conta è la qualità della musica quindi di queste audizioni alla cieca adesso sono diventata la norma tutte le orchestre quando fanno il concorsi per entrare fanno queste ovviamente ce ne sono di diversi tipi li possono anche fare in pubblico le audizioni e vedete che c'è una barriera tra chi giudica e chi fa l'esame e il pubblico vede ma quelli che giudicano non lo vedono loro hanno 1,2,3,4,5,6 e devono dare il voto in generale fanno fare lo stesso pezzo a tutti o un certo numero di pezzi a tutti in modo tale che possano giudicare tutti esattamente con lo stesso metro non ci crederete ma così è aumentato il numero di donne nelle orchestre nel 1970 erano il 5% nel 1990 erano salite al 20% e adesso stanno salendo sempre di più ma questo qui è un frutto delle audizioni alla cieca quindi dove l'unica cosa che viene giudicata è la qualità della musica che uno riesce a fare quindi vediamo un attimo abbiamo parlato un pochino di università vediamo nel mondo del lavoro che cosa succede allora qui vedete dei pupazzetti di un uomo e di una donna sono pupazzetti non hanno sembianze perché si riferiscono a un test che è stato fatto è stato anche ripetuto diverse volte per vedere come vengono giudicati i curriculum di aspiranti a un posto di lavoro una ditta mette fuori l'annuncio cerco un esperto di diritto internazionale piuttosto che di elettronica miniaturizzata piuttosto di quello che volete voi e riceve delle risposte le risposte sono dei curriculum vite quelli che ognuno di noi ha costruito in qualche momento della vita dove che iniziano con il nome il cognome della persona l'età le scuole che ha fatto le esperienze che ha avuto eccetera ma c'è un nome un cognome allora quello che è stato fatto è costruire dei curriculum vite esattamente identici come contenuto uno può dire sono andato al liceo classico piripicchio piuttosto che al liceo classico piripacchio ma ho questa istruzione sono andata a questa università ho preso questo titolo di studio questo e quindi c'è tutta una tutte le informazioni che poi vengono giudicate nel quando il l'ufficio del personale di una ditta guarda il curriculum che riceve erano identiche ebbene questi falsi curriculum sono stati giudicati diversamente se erano attribuiti a un uomo o a una donna quando una certa esperienza era attribuita a una donna veniva giudicata meno buona di quando veniva attribuita a un uomo allora ovviamente visto che era un test ed erano tutti curricula inventati ma costruiti ad arte si sono scambiati Mario è diventata Maria Giovanna è diventata Giovanni e misteriosamente la differenza è rimasta nel senso che il curriculum dell'uomo che prima era di una donna e quindi prima aveva preso meno punteggi quando è stato attribuito a un uomo ha preso più punteggio bella fregatura e questo qui l'hanno se lo sono trovati davanti le stesse persone adesso vediamo un attimo di parlare del fattore stipendio avete sentito prima che diceva la costituzione dice che dovrebbero essere retribuiti nello stesso modo ora questo è vero nella in tutti coloro per esempio che lavorano per la pubblica amministrazione perché gli stipendi sono decisi diciamo così a priori solo sulla base dell'anzianità del livello di carriera eccetera ma nelle industrie quando uno va a diciamo viene assunto possono offrire uno stipendio ma lo stipendio può essere negoziato nel senso che se disperatamente l'industria vuole un certo tipo di personalità un certo tipo di esperienza magari offre di più rispetto alle tabelle che ci sono in giro e quindi questo ovviamente non succede solo in Italia ma succede in tutto il mondo nell'industria privata gli stipendi sono negoziabili tant'è vero che ogni tanto uno sente dire vado a chiedere un aumento di stipendio ad esempio io non sono mai andata a chiedere un aumento di stipendio perché non è previsto in un ente di ricerca che uno chieda un aumento di stipendio quindi però ho amici che lavorano in industrie private che appunto mi dicono è ora che chiedono un aumento di stipendio eccetera allora fattore stipendio il World Economic Forum ha studiato la questione a livello mondiale 145 nazioni la risposta è una sola le donne prendono meno degli uomini quanto meno dipende dalla dal grado di sviluppo o di arretratezza culturale della nazione quindi gli stipendi delle donne sono sempre inferiori a quello degli uomini ma la nazione dove diciamo il divario è il più piccolo è il belgio che ha dove le donne prendono il 94% di quello che prendono gli uomini l'Italia vedete prende l'89% ma ci sono appunto posti con una cultura patriarcale molto più ancora forte dove vedete che le diciamo la differenza il divario uomo o donna diventa sempre più importante e poi non stiamo parlando del Mali o di altri posti dove la situazione è molto più drammatica questo qui stiamo parlando di economie avanzate diciamo così quindi vedete che l'Europa è in una situazione diciamo buona non è una situazione drammatica però in nessun paese d'Europa neanche negli Stati Uniti si arriva a una situazione di parità quindi le donne prendono meno degli uomini ma la cosa incredibile è che questa situazione uno la ritrova nei posti più cioè la ritrova anche in altri mondi non solo nel mondo dell'industria della finanza non ne parliamo che è un mondo terribilmente maschilista ma per esempio nello sport alle olimpiadi vanno maschi e femmine quando si contano le medaglie contano tanto le medaglie dei maschi quanto le medaglie delle femmine però le atlete femmine vengono pagate meno degli atleti maschi quantomeno lo vedete qui allora questi qui sono degli sport un po' inglese perché l'ho preso dalla BBC questa e quindi è in sterline ma comunque vi da semplicemente a scusate a sinistra ci sono i maschietti grazie a destra le femminucce guardate ad esempio il calcio il primo il nella grazie campionati mondiali di calcio passiamo da wow 630 mila sterline a 22 milioni quindi una sberla di 30 volte la differenza non è proprio pochissimo vedete che invece ci sono delle varia molto da da sport a sport ad esempio il cricket che è uno sport che noi non pratichiamo per niente ma che in Inghilterra è praticamente lo sport nazionale vedete che si passa da 47 mila per le donne a 2 milioni e mezzo per gli uomini quindi sono dei divari bestiali che diventano un po' meglio per esempio nel golf nel golf il fattore è tra 2 e 3 quello che prende un campione maschio da un campione femmina e ci sono state delle lunghissime battaglie per esempio a Wimbledon che fanno i tornei di tennis che chi vince prende un premio prende il piatto ma poi prende un assegno significativo e alle donne veniva dato un assegno inferiore a quello degli uomini cioè le donne che aveva vinto la gara prendeva di meno adesso dopo molte molte discussioni da parte delle atlete sono arrivate ad almeno ad avere lo stesso premio diciamo poi alla fine quello che guadagna uno sportivo lo decide anche molto la quantità di sponsor che uno ha quindi non è solo stipendio ma vediamo che la situazione e ci chiediamo le attrici le attrici vediamo qua la lista degli attori più pagati nel 2015 allora vedete che la prima attrice nella lista è Jennifer Lawrence che ha preso per il film The Hunger Game 22 milioni mentre l'attore più pagato ne ha presi 40 cioè sono sempre attori che è un film non è quello che hanno preso durante l'anno eh e per esempio appunto vedete che Scarlett Johnson che era dentro nel film nello stesso film del del primo quindi lei è la protagonista femminile l'altro è la protagonista maschile lei ha preso 20 milioni e l'altro ne ha presi 40 quindi questo qui è il gap di paghe ora uno può anche dire vabbè e chi se ne frega hanno preso 20 milioni di dollari per fare un film però è è sempre una in qualche modo un'informazione che il lavoro di una attrice è pagato di meno del lavoro di un attore per fare lo stesso film allora visto che io sono una astronoma vi faccio vedere un caso astronomico perché pagare poco le donne è un vecchio vizio vizio che diciamo questa qui è una foto storica fine ottocento e siamo all'interno dell'osservatorio astronomico di Harvard quindi siamo a Boston siamo nella città vicino a Boston è il massimo tempio del sapere astronomico negli Stati Uniti dell'epoca e quello che vedete qui è un gruppo di signore vedete che sono solo donne non stanno facendo un corso di taglio e cucito ma stanno analizzando dati astronomici le donne non potevano andare a fare osservazioni al telescopio perché era considerato un lavoro poco femminile le facevano gli uomini che prendevano foto prendevano lastre e poi queste lastre venivano date nelle capaci mani di queste signore per analizzarle e vedete qui una foto di gruppo di tutte queste signore con un solo maschietto che era il maschio alfa della situazione il direttore dell'osservatorio si chiamava Pickering che si era fatto quello che i suoi colleghi che lavoravano in altri osservatori chiamavano l'arem di Pickering perché lui si era fatto questo gruppo di donne che erano diventate bravissime a fare l'analisi delle lastre e alcune di queste hanno dato dei contributi fondamentali alla storia dell'astronomia per esempio questa signora qui si chiama Annie Cannon ed è quella che ha fatto la classificazione stellare lei da sola ha trovato un modo astutissimo di classificare le stelle e noi usiamo ancora la classificazione fatta da questa signora quest'altra invece è una donna che ha scoperto una relazione un comportamento un po' strano di un certo tipo di stelle che è la relazione che ci ha permesso di misurare la distanza delle galassie diciamo più vicine la distanza della galassia di Andromeda è stata misurata con il metodo messo a punto da questa signora quindi questa signora è stata persino considerata per il premio Nobel ma purtroppo quando in qualche modo è arrivato il suo turno lei era già morta il premio Nobel non si dà ai morti quindi questo qui per darvi un po' un'idea ovviamente qualcuno mi può dire beh la parità non si gioca solo sullo stipendio vero e allora sempre il World Economic Forum che la questione di genere la prende molto seriamente ha fatto uno studio molto molto dettagliato sullo stato femminile in come dicevamo 145 paesi al mondo e che si basa su quattro parametri vedete partendo dall'alto economia che quindi vuol dire quanto le donne partecipano all'economia del paese quindi quante donne lavorano education quante vanno a scuola e quindi riescono ad arrivare a un livello buono di educazione salute quindi che tipo di infrastrutture mediche sono disponibili e poi politica cioè quanto le donne prendono parte alla politica quindi sulla base di questi parametri il posto migliore per le donne dove sta nell'Islanda che è al primo posto nella graduatoria l'ultimo è lo Yemen che è il più sfigato di tutti il tratto nero un po' pesante che vedete è la media dei 145 paesi quindi guardando la media capite che in generale in quasi tutti i posti educazione e salute sono in buono stato sono in ragionevole forma quello che non funziona bene è la partecipazione alla vita politica perché è decisamente il parametro più basso di tutti in generale e poi anche la partecipazione alla vita economica allora volete sapere dov'è l'Italia? l'Italia è il posto quarantunesimo ed è quella la qua vedete quindi l'Italia è in media mediamente diciamo né buona né cattiva è dentro nella media ma vedete ad esempio la Svizzera la Svizzera qua che è all'ottavo posto nella graduatoria ed è più alta di noi perché ha più donne nella che lavorano diciamo così e più donne nella politica e quindi la Francia è la quindicesima ed è più alta di noi perché ha più donne nella politica quindi questi parametri poi alla fine valgono quello che valgono ma vuole semplicemente dire che la la parità nel mondo è una cosa ancora da raggiungere qui le le nazioni diciamo più blu sono quelle più avanti nella parità man mano che si va verso il grigio pallido bianco sono quelli che sono più indietro nella parità quindi vedete che l'Italia non è che brilli per una particolare parità non sono drammatiche le condizioni potrebbero essere meglio allora certo le come mai succede questo perché ci sono delle ragioni biologiche allora per ci sono chiesti molti se c'erano delle ragioni fisiche biologiche per cui le donne riuscissero meno bene degli uomini e il primo studio che è stato fatto l'ha fatto l'esercito degli Stati Uniti usando un'informazione che è necessaria per dotare di un uniforme tutti i soldati che è la circonferenza della testa quindi tutti devono avere un certo numero di cappelli per i vari tipi di uniforme e quindi hanno fatto la media la circonferenza degli uomini la circonferenza delle donne eccetera è venuto fuori che le donne hanno mediamente una testa un po' più piccola di quella degli uomini è normale le donne sono tutte un po' più piccole di quelle degli uomini e quindi hanno detto ah ah hanno la testa più piccola hanno il cervello più piccolo è normale che siano un po' più tonte allora ovviamente questa qui è una roba molto scivolosa perché uno comincia a dire non è importante il peso del cervello ma il rapporto tra il cervello e il peso corporeo e tutte queste belle cose qui poi sono andati immediatamente a infoniarsi in problemi con i neri gli asiatici così che avevano tutti delle teste più piccole dei bianchi e quindi questa cosa qui è stata prontamente mollata lasciamo perdere il teorema del cappello e facciamo delle cose un po' più tecnologicamente avanzate questa è un'immagine è una scansione magnetica è un'immagine di un cervello e la domanda è è un maschio o è una femmina la risposta sono andata a cercarla nel senso che la la domanda è esistono due tipi di cervelli un cervello maschile e un cervello femminile attenzione perché all'inizio del novecento facendo l'analisi dei cadaveri erano convinti che ci fossero due tipi di cervelli allora sono stati fatti degli scan di 1400 cervelli di volontari tra 13 e 85 anni sono risonianze magnetiche e con questi scan si è cercato di capire se esistono cervelli di tipo femminile ed esistono cervelli di tipo maschile la risposta è che nei cervelli ci sono circa 29 regioni facili da da riconoscere materia grigia materia bianca l'ipotalamo la migdala ci sono delle regioni facilmente riconoscibili e tra la grande maggioranza dei cervelli è di tipo misto quindi se uno guarda una scansione di un cervello non può dire se è un cervello di un maschio o se è un cervello di una femmina quindi ricordatevi che non ci sono due tipi di cervelli quindi le donne hanno lo stesso cervello degli uomini e quindi hanno le stesse capacità e sarebbe veramente auspicabile che venissero giudicate nello stesso modo grazie ringraziamo l'astrofisica Patrizia Caraveo che ci ha dato molti spunti su cui pensare e ragionare ora lasciamo la sala c'è una conferenza alle 17.30 sempre in questa stessa sala di Silvano Tagliagambe un nuovo rapporto terapeutico medico paziente l'armonia tra corpo mente e psiche grazie per essere state con noi grazie all'astrofisica Patrizia Caraveo buona serata